Allora, buonasera a tutti. L'Inghilterra batte per 4 a 0 l'Ucraina e accede alle semifinali di Euro 2020 dove sfiderà la Danimarca che quest'oggi ha battuto la Repubblica cieca per 2 a 1. Vittoria a inscioltezza per la nazionale di Southgate che adesso potrà nuovamente usufruire del fattore casa considerato che sia le due semifinali sia la finale si disputeranno a Wembley. Inghilterra che si è portata in vantaggio dopo soli tre minuti dal fischio d'inizio con Kane che ha ricevuto l'assist da Rahim Sterling e in spaccata ha spedito in rete. Dopo il gol del vantaggio l'Inghilterra non si è espressa su ritmi altissimi nel corso della prima frazione di gioco e prima dell'intervallo l'Ucraina ha comunque dato l'impressione di potersi rendere pericolosa e di poter creare difficoltà alla nazionale di Southgate che però poi nella ripresa ha dominato in lungo e in largo trovando subito il raddoppio con McGuire che stacca di testa e spedisce in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione successivamente arriva il 3-0 con Kane che mette a segno la sua doppietta personale sempre con un colpo di testa e Jordan Henderson cala il poker anche lui con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi negli ultimi minuti di gara gli inglesi hanno semplicemente controllato il gioco giocando sul velluto. E adesso Inghilterra-Danimarca sarà certamente una bella semifinale l'Inghilterra parte favorita considerato anche che giocherà in casa e il fattore casa per la nazionale di Southgate potrebbe fare la differenza e non poco anche perché per le semifinali e anche per l'eventuale finale l'Inghilterra potrà usufruire della presenza di una percentuale maggiore di pubblico e abbiamo visto comunque la capacità del tifo inglese di fare la differenza e di trascinare la propria squadra in occasione di Inghilterra-Germania che è stato un ottavo di finale davvero tiratissimo una partita giocata su ritmi molto alti nella quale poteva davvero succedere di tutto tra due squadre che hanno mostrato di equivalersi ma alla fine a fare comunque la differenza a favore degli inglesi oltre ovviamente ai meriti dei ragazzi di Southgate c'è stata la spinta del pubblico però comunque questa fase ad eliminazione diretta di Euro 2020 ci ha insegnato che le sorprese non sono da escludere e la Danimarca è una squadra assolutamente da non sottovalutare e la grande sorpresa di questo europeo è una nazionale che è diventata un po' la seconda squadra di tutti perché dopo l'avvenimento di Eriksen che ha davvero colpito tutta l'Europa e tutto il mondo questa squadra è riuscita ad andare avanti è riuscita a compattarsi dopo le prime due sconfitte e a dare davvero delle grandissime dimostrazioni di forza anche mentale perché erano praticamente quasi fuori dopo le sconfitte con Finlandia e Belgio ma non si sono dati per vinti e hanno mostrato tutto il proprio valore e la Danimarca davvero è un mix di grande qualità e grande solidità ma ci sono anche diversi singoli che si stanno mettendo in mostra su tutti i centravanti dell'Ipsia Polsen, Damsgaard della Sampdoria davvero calciatori di ottime qualità tecniche e che stanno trascinando i danesi ma anche l'esperienza di Christensen e chi è rindifesa tutto ciò nonostante l'assenza del proprio calciatore maggiormente rappresentativo che ovviamente è Christian Eriksen che purtroppo ha dovuto subire un'operazione molto importante e non sappiamo se potrà tornare a giocare a calcio ovviamente ci auguriamo tutti di sì ma l'importante è che sia andato tutto per il meglio e che almeno le condizioni di salute del centrocampista siano stabili l'altra semifinale sarà Italia-Spagna questa qui è certamente una semifinale dall'esito più incerto aperta a qualsiasi risultato si sfidano a mio avviso le due squadre che hanno un'identità di gioco ben collaudata più di tutte le altre ma penso che l'Italia se riesce a dare continuità alla prestazione di ieri se riesce ad imporre il proprio gioco a trovare comunque il massimo rendimento dai propri singoli può assolutamente farcela a tutte le carte in regola per raggiungere la finale e continuare ad inseguire il sogno e Inghilterra che comunque ad oggi è probabilmente la favorita numero uno per la vittoria finale una squadra davvero straordinaria nelle individualità che nel corso di questo europeo ha avuto un'evidente crescita sotto l'aspetto del gioco e dell'intensità e io credo che si tratta di una nazionale che ha davanti a sé un futuro roseo per chi ha a propria disposizione un organico davvero molto ampio forse l'organico più ampio numericamente dell'europeo ma poi ci sono tanti giovani nella nazionale di Southgate di grandissime qualità tecniche e destinati ad una crescita costante mi riferisco ai vari Mount Sancho, Rice James del Leeds pensate che poi questa sera erano in panchina calciatori come Foden come Rashford sto parlando di questi giovani oltre ovviamente ai già affermati Stirling e Kane davvero una gran bella squadra che ripeto nei prossimi anni potrà davvero raggiungere dei grandissimi risultati e dunque detto questo è tutto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti